Salve, mi chiamo Ali, sono della Repubblica di Cipro del Nord, vivo a Famagosta, vorrei sapere se l'Unione Europea è un club cristiano e se è per questo motivo che non accetta l'adesione della Turchia e della Repubblica di Cipro del Nord. L'espressione club cristiano è usata molto spesso dagli analisti turchi quando parlano di relazioni con l'Unione Europea. Hanno iniziato ad usarla sin dall'inizio dei negoziati, quindi sin dall'inizio i turchi hanno paura di essere respinti per ragioni culturali o semplicemente religiose. Nel trattato europeo in realtà non abbiamo riferimenti alla religione per cui per il diritto europeo quello religioso non è un vero motivo, ma si tratta di un problema sentito a livello di stati membri e di opinione pubblica. Vediamo negli ultimi sondaggi di Eurobarometro che appena il 30% degli europei è favorevole all'adesione della Turchia. È evidente, dando uno sguardo al paesaggio politico europeo, che questo è legato all'avanzata delle destre populiste in Europa, del razzismo, una sorta di malessere nei confronti dell'islam. Per cui un paese come la Turchia è considerato probabilmente più estraneo all'Europa di altri. Questo non toglie niente al fatto che i governi europei, per la gran parte, sono favorevoli, cosa che rappresenta una differenza interessante da analizzare. In realtà c'è un solo Stato membro che si oppone a questa adesione e la Francia. La posizione della Germania resta ambigua, contraria a quella dell'Austria, ma globalmente gli Stati membri sono per l'adesione e molti la difendono come i paesi del Mediterraneo. È chiaro che la voce di questi ultimi non la sentiamo, soprattutto in questo momento di crisi, di grave crisi finanziaria, per via dei debiti sovrani, per cui è chiaro che questi paesi non sono nella misura di farsi ascoltare. Senza poi dimenticare che la coppia franco-tedesca resta la coppia fondatrice dell'Unione. E sono Francia e Germania a dare la direzione politica all'Unione. Per questo è importante per i turchi che la Francia e Nicola Sarkozy diano il proprio assenso all'adesione. Se anche voi avete una domanda, contattateci al sito qui, in sovraimpressione.